Pugno di ferro della procura di Isernia sul contrasto all'inquinamento. Nel suo bilancio di fine anno il procuratore Carlo Fucci si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti dopo quattro anni di indagini sulla piana di Venafro. Dall'inchiesta sono venute fuori diverse ipotesi di reato, aperti alcuni procedimenti penali, ma altri sono stati ormai archiviati perché risalgono al passato. Tutte queste indagini hanno portato ad accertare anche delle responsabilità penali. In alcuni casi abbiamo esercitato l'azione penale, in altri casi siamo sul punto di farlo. Purtroppo in altri abbiamo dovuto, pur rilevando dati penali, archiviare per il tempo passato, per l'impossibilità di individuare chi è stato causa di inquinamenti partiti tanti anni fa. Per questo Fucci ha proposto l'attivazione di un protocollo per il rilevamento continuo dei dati. Ciò permetterà all'autorità giudiziaria di monitorare le attività produttive e all'autorità sanitaria di intervenire laddove sia necessario. Una situazione come questa non può morire sul piano penale e non può esaurirsi sul piano penale. Perché adesso c'è necessità di continuare, completare, ampliare questi monitoraggi, verificare se quei livelli di inquinamento o altri sono dannosi per la salute pubblica. E secondo me già lo sono, lo sono stato e lo sono. Ma occorre che le autorità politiche e amministrative vadano oltre. L'obiettivo dunque è quello di evitare che si ripetano gli errori del passato. C'è l'altro grosso problema della necessità di rendere più efficienti i sistemi di monitoraggio, di automonitoraggio delle aziende che svolgono attività a rischio. E rispetto a ciò occorre un'attenzione maggiore da parte dell'ARPAM che già so che nel corso di questi ultimi tempi ha cominciato a mettere in campo un modo diverso rispetto al passato di azione. Quello che noi ospichiamo e quello che noi abbiamo rilevato, mi riferisco al passato, come sbagliato. Massima attenzione è stata data anche alla violenza di genere, allo spaccio e al riciclaggio. Si è lavorato molto anche sul versante dell'evasione fiscale e del contrasto al riciclaggio. Parlo anche di qualcosa di significativo, di accertamenti, di fatti, di somme rilevantissime. E sul piano del Codice Rosso siamo stati attentissimi. Non si può mai essere tranquilli ma abbiamo svolto un'azione sempre tempestiva, ovviamente in sinergia con le forze dell'ordine. Dopo la visita di Nicola Morra, ex presidente della commissione antimafia ad Agnone, il procuratore ha voluto ribadire che l'infiltrazione della criminalità organizzata in Molise deve essere contrastata in termini di tutela ambientale. Svolgere attività produttive, in genere, adesso non mi riferisco a nulla in particolare e a nessuno in particolare, che determinano guadagni enormi, ma con disattenzione mi si lascia passare questa espressione, ai danni che si producono o si possono produrre al territorio, e quella è una criminalità pericolosa. Grazie. 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 Grazie.